signori e signori buongiorno con solita rassegna stampa oggi mercoledì 22 aprile 2020 pagina 2 clamoroso anzi scusate pagina 4 gazzetta dello sport la serie ha deciso si riparte per andare dove io infatti ho aggiunto un punto interrogativo cosa vuol dire si riparte non decide la serie a non decide la lega non decide la figgc e torniamo a pagina 6 il governo frena perché l'ha deciso si riparte a tutta pagina la pagina dopo che ci sembra quella molto più interessante si legge ma il governo frena molto più piccolo io capisco che anche la gazzetta un momento così difficile abbia bisogno di titoli scup però devo essere onesto non vedo tutta questa voglia da parte del governo e dovranno essere loro i medici a decidere nella lega nella federcalcio nella juventus nella fiorentina nell'intero chi volete voi ieri sera ieri pomeriggio il presidente del consiglio giuseppe conte ha ripetuto eccolo qua dal corriere della sera mascherine fino al vaccino la distanza sarà anche di due metri è una legge un decreto che vale per tutti oppure i calciatori sono esentati perché io me l'immagino giocare con la mascherina stand a due metri non capisco questa questa voglia di voler fare del calcio la solita oasi che prevarica e prescinde da tutto per dirne una il daspo se uno commette un fatto violento ha il daspo no ci deve essere una condanna civile e penale no c'è il daspo tutto ciò che accade nel mondo civile lo spalma debiti per la lazio fino al 2026 nella società civile tutto ciò non funziona quindi il il i casi sono due ieri ho avuto una breve conversazione telefonica col l'amico e collega francesco zei il quale diceva siamo d'accordo tutti e l'ipotesi galliani è quella che ci accomuna riniziare il campionato di calcio a settembre ottobre e andare avanti fino a gennaio febbraio breve stop e cominciare con la nuova stagione perché io anche questa però implica l'adozione del vaccino che ancora deve essere sperimentato ci sono tante voci dicono che dalla svizzera chissà mai perché dovrebbe arrivare a ottobre novembre però se mi dicono che la distanza sarà anche di due metro e mascherine fino al vaccino la serie ha deciso si riparte come cioè al primo poi cosa succede al primo positivo infatti vado a leggere unità ritrovata due votazioni superate all'unarmità 20 su 20 come lega non succedeva da tempo i club di serie a si ricompattano in vista dell'appuntamento di oggi con il governo a cui si vuole offrire un'immagine di solidità lo stesso vale sul fronte dei diritti televisivi solo un gruppo coeso può replicare confermezza alla richiesta dei licenziatari tv l'assemblea di arimattina trova così la sua espressione in un comunicato diffuso subito dopo pranzo leggo da alessandra gozzini con voto unanime di tutte le 20 società collegate in videoconferenza a confermare l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020 la domanda è come ripeto perché cosa succederebbe al primo al primo contagio mentre vediamo in olanda verso sport sport stop definitivo al campionato causa il virus quindi si va verso lo stop al calcio professionistico in olanda almeno fino al primo di settembre oggi vertice da spadafori da spadafora ministro dello sport il protocollo sotto esame il ministro darebbe il via libera solo per gli allenamenti individuali peccato che il calcio sia uno sport di squadra partire piano di certo tutto il calcio concorda almeno su una cosa deciderà il governo appunto quindi la ha deciso si riparte la avrebbe deciso ha trovato questa unità di intenti quindi vorrebbe ripartire però è assolutamente assolutamente necessario che l'ok venga dal governo e dai vertici della sanità la serie a può decidere quello che gli pare ma ripetiamo non è decisiva la parola né della federazione né della lega né delle società a suffragare questa mia tesi abbiamo prima pagina della gazzetta lucaco shock il l'attaccante belga ex everton ex celsi a gennaio all'inter tutti ammalati con tosse e febbre scrini era san siro quasi svenne era covid allora non c'erano i test mi sembra che sia un bel masso nello stagno e intervistato dalla moglie di drill mertens l'attaccante del napoli quando stavamo tornati dalle vacanze di natale stavamo tutti vali male ma non so se avevamo il coronavirus non abbiamo fatto i test e non possiamo saperlo con certezza ricordiamo che intercagliere del 26 gennaio uno a uno screener esce dal campo dopo 17 minuti per giramenti di testa dovuti a sindrome influenzale il club naturalmente irritato solo quattro influenzati un normale inverno la società racconta di quello che ha detto lucaco dicendo ha dato una disamina confusa fuori per febbre solo devrai scrignia d'ambroso e bastoni ricordo che a fine gennaio fino a metà febbraio ci sono stati degli episodi non di particolare violenza d'impatto da parte dell'influenza ne sono stati colpiti anche due collaboratori di firenze viola super sport ma si pensava fosse la normale influenza perché di ciò si era trattato però lucaco dice che paura gennaio 23 su 25 con tosse e febbre 23 su 25 lascia qualcosa a pensare se ne sente dire talmente tante su questo coronavirus che effettivamente è difficile giudicare però qualche cosa lascia traccia come mi sembra strano che visto il vivere in in simbiosi vivere insieme e stare a stretto contatto pochissimi giocatori siano stati colpiti dal coronavirus fortunatamente la ferentina sotto questo punto di vista bisogna dare atto è stata molto molto aperta ha detto subito che blaovic crutrone pezzella e purtroppo il dottor pengue erano stati colpiti e sono stati trovati positivi poi la cosa grazie a dio si è risolta però è stata molto molto aperta nel dire tutto ciò quindi vedete che si parla di ripartire ma il governo giustamente frena anche perché come fare a ricominciare lo sport quando ripeto si parla di mascherine fino al vaccino e distanza anche di due metri chiude intanto definitivamente la pallannuoto sport che a firenze viola super sport a me e a stefano ballerini in particolare sta particolarmente a cuore e vedremo di approntare nei prossimi giorni un un nostro nostro collegamento o con un giocatore o con l'allenatore tofani intanto a pagina 13 del corriere fiorentino tutti i tornei di pallannuoto verso la sospensione il coach della rari nantes roberto tofani un amico i tempi si allungano troppo meglio fermarsi i tempi si stanno allungando troppo e temo che i nostri campionati siano mai andati siano mai andati anche perché lì il problema non si pone parlando con chi di pallannuoto ne sa più di noi vincitore di scudetti di coppa italia e di coppa delle coppe riccardo tempestini incontrato dalla presentazione al match ball candeli di quelli che dovevano essere il torneo di qualificazione dell'internazionale italia di tennis lui appassionato di tennis di pallannuoto e di rugby avevamo modo di parlare mi disse vedi il problema non è come giustamente diciamo tutti che lo scudetto e 13 anni lo vince la pro recco sappiamo già che la pro recco arriverà prima che brescia arriverà seconda che ortigia al banco sport management arriveranno terze o quarte e poi ci saranno le altre praticamente ogni squadra alla propria casella quindi indubbiamente lo stop della pallannuoto al di là dei ragazzi è quello che fa meno male anche perché essendo state fermate le olimpiadi e anche sul luglio 2021 permettetemi di avere seri dubbi perché se non si trova il vaccino sarà molto difficile di cominciare gli allenamenti e poi portare tante persone in giappone visto che dopo la prima ondata di coronavirus io non parlo della cina perché un mondo molto particolare perché da dove è nato il focolaio mi sembra strano ci siano meno situazioni di positività rispetto a spagna italia però tutto ciò che viene dalla cina va preso con grano salis però anche il giappone ha paura di questa seconda ondata di virulento attacco da parte di questo coronavirus e anche lì voglio fare chiarezza è vero che a Wuhan come in altre parti del mondo ci sono dei laboratori che studiano una volta si sarebbe detto delle situazioni per la guerra batteriologica però il principale giornale che parla di medicina dell'organizzazione mondiale della sanità ci dice e a dobbiamo stare che il virus ha origine animale sembra che venga trasmesso dal pipistrello animale che è oggetto di caccia da parte del pangolino il pangolino è un animale che viene le carni prelibate secondo i cinesi del pangolino vengono mangiate e quindi si parla di una situazione a livello animale poi ci sono coloro i quali uno per tutti lo scopritore premio nobel della seropositività dell'HIV il quale ha detto si è cercato di un vaccino per l'HIV e qualcosa è uscito da questo laboratorio e si trovano tracce di HIV del coronavirus ho parlato con medici mi hanno detto è un'evoluzione della SARS 2 che fece molti meno danni proprio nel 2002 ma era un covid 2 questo è un covid 19 perché stiamo parlando del 2019 quindi ogni virologo ha la propria tesi io non sono un virologo mi piace ascoltare mi piace leggere per fare un minimo di informazione però a tutt'oggi non si può prendere una strada ben precisa dire così la stragrande maggioranza degli studiosi biologi virologi e studiosi di malattie effettive parlano di una origine animale alla base del covid 19 una cosa è certa la strada è questa mascherine ripeto fino al vaccino e vorrò vedere come 22 giocatori più le riserve più gli arbitri più guardialine potranno giocare con le mascherine stando a due metri di distanza però ripeto la gazzetta dello sport l'ha ha deciso si riparte ma l'ha deciso per quanto riguarda se stessa ma sono altri i tempi e soprattutto coloro i quali dovranno decidere intanto a pagina 8 i punti interrogativi tempi tampone una domanda un nuovo positivo si ferma tutto il medico sociale pilota addirittura allenamento del raduno chiuso palaia del lecce pronti a ricominciare ma il 4 maggio è una data troppo vicina intanto si comincia a diluire e spostare più là il tempo i tamponi sarebbero due quelli a cui giocatori si sottoporreranno a 24 ore l'uno dall'altro come da protocollo prima di riprendere l'attività agonistica ricordiamo che per terminare la serie a 2019 2020 mancano 12 turni più 4 recuperi le società di appunto non riprendere gli elementi il 4 maggio ma avete sentito che la situazione è abbastanza critica e l'attività ufficiale il 27 con le semifinali di coppa italia io che il 27 di maggio si giochi la coppa italia mi dispiace non ci credo però oggi il ministro spadafora potrebbe chiedere altro tempo prima della ripresa del lavoro fino all 11 maggio non credo che spostando di una settimana si si può si pospone soltanto il problema ma non credo che sia la soluzione del problema di questo coronavirus vedete tutte le federazioni vanno vanno verso la chiusura cerchiamo e proviamo a parlare di calcio ci sono state varie interviste a rocco commisso avete letto quella di lunedì scorso a stadio poi è stato ospite a toscana tv dall'amico pagnini dove ha parlato e in senso generale di questa situazione gli manca molto venire a firenze ha parlato di stadio ha parlato di centro sportivo ha parlato di burrazia quindi ha ribadito le cose che aveva detto su stadio però ha voglia di portare la fiorentina nella parte sinistra alta della classifica perché ha detto io non sono venuto in italia per fare da comprimare e la campagna acquisti di gennaio di viola a gudello qua me igor e duncan ha lasciato prevedere e far vedere ai tifosi della fiorentina speranze di un rilancio e a pagina 19 da parte del collega luca calamai qua me sogno il primo gol al franchi e la champions con la fiorentina lui addirittura e ha messo il carro davanti ai buoi livoriano quasi pronto dopo l'infortunio commisso mi ha ricordato la rete che fece al ferraris con il genoa proprio ai viola lì ci mise un po del suo ranieri però ricordiamo che prima dell'infortunio qua me l'attaccante 23 n 11 partite quest'anno con il genoa 5 reti quindi aveva dimostrato di esserci e di esserci bene ma andiamo a vedere cosa dice nello specifico ha scelto la maglia numero 9 il numero 9 uno dei suoi miti samuel eto mi piace tutto di lui è il mio idolo insieme a drogba ho dovuto lottare molto per emergere rappresenta l'africa incarna lo spirito di sacrificio vorrei rubargli l'istinto killer e la sua innata capacità di segnare il suo accostamento con i grandi eto drogba calciatori africani mi ricordo fu a una domanda proprio nostra a riguardo di qua me il 9 anche un numero sacro qual è il suo rapporto con la fede e mi ricordo e lo attesta qui un rapporto molto forte sono molto religioso credo in dio credo che tutto ciò che accada abbia un senso più profondo il 9 rimanda alla madonna l'ho scelto con la mia ragazza è vero che se lo chiedesse iachini sarebbe disposto a fare anche il terzino come eto fece nell'inter di murigno mi ricordo la partita di semifinale contro il celsi c'è di champions league certo se vuole sono pronto a giocare anche in porta a parte le battute nel calcio di oggi bisogna adattarsi a tutto senza l'infortuna sarebbe andata al crystal palace non ho rimpianti sarei dovuto andare in premier e mi sarebbe piaciuto perché quello inglese è un calcio che mi appassiona però mi sono fatto male il destino voleva così e infatti un'altra mia domanda fu il suo rapporto con sa avrebbero fatto una coppia d'attacco con il crystal palace assolutamente importante la sua famiglia tifa per la fiorentina la famiglia adottiva la famiglia che dunque è stato accolto è a sesto fiorentino lui ha cominciato con la sestese e per me naturalmente tifa per la fiorentina e per tutti coloro che indossano la maglia viola ho avuto modo di conoscere la sua famiglia e il padre la prima telefonata la quale qua me fece fu al padre adottivo dicendo mi ha preso la fiorentina ci fu un boato perché sono grandi tifosi della fiorentina i suoi sogni sportivi il mio primo obiettivo è tornare prima possibile in campo e questo stop forzato ha aiutato il recupero di qua me poi vorrei giocare un giorno la champions perché no con la maglia della fiorentina mi piacerebbe vincere qualche trofeo e giocare un mondiale con la mia nazionale ha pensato a come festeggiare il suo primo gol in maglia viola no chiaramente sicuramente sarà un momento bellissimo qualcosa di liberatorio che dedicherò alla mia famiglia e a tutti coloro che in questi momenti stanno facendo di tutto per combattere questo terribile virus vedete nella domanda di un giornalista giornalista esperto di un giornalista ormai navigato come calamai c'è un 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 precorrere i tempi il primo gol una volta la gioia era istintiva veniva al momento se vi ricordate l'esultante adesso sono studiate hanno cominciato quelli del bari a fare il trenino poi c'è chi ha imitato battistuta con la mitraglia io credo che l'esultante più bella sia quella istintiva non quella studiata ha parlato spesso di razzismo non ha mai subito attacchi razzisti se non una volta la se stese lui ricordava i razzisti si affrontano i sorrisi e non vinceranno mai dice io lo dribblai tre o quattro volte e gli dissi vedi un nero riesce a superarti in dribbling quindi mi ricordo benissimo questa risposta alla presentazione della conferenza stampa di qua me in nella sala stampa manuela reghini della fiorentina cosa l'ha colpita di ribery la domanda di riferimento di tutti i giocatori della fiorentina è frank ribery tutto mi sembra di sognare sapendo che presto mi allenerò con un simile fenomeno frank ha una fame incredibile nonostante abbia vinto tutto chiesa è giovanissimo ma già un campione in pianta stabile nazionale vive per il calcio a una forza straripante sarà un piacere giocare con lui vlaovic e cutrone ragazzi d'oro siamo ben assertiti nel reparto offensivo sì ci sarà anche molto affollamento chiaramente queste sono le domande di prammatica e naturalmente le risposte sono assolutamente scontate mi immagino che arrivo io in una società cosa pensa del giocatore x ma sta anche antipatico se lo mandano via meglio possibile queste sono domande di routine le risposte non possono essere che queste il gol che sogna di realizzare sogno un gol al mio esordio magari sotto la fiesole anche se temo che per molto tempo non potremo avere i nostri tifosi allo stadio ha capito tutto bravo qua me perché io sono sicuro che prima dell'anno prossimo non rivedremo i tifosi allo stadio ma mi sembra di essere molto ottimista ripeto la discriminante è il vaccino con il vaccino potremo anche pensare a riprendere una vita normale come abbiamo vissuto fino a gennaio senza il vaccino ci saranno tutte queste imposizioni tutte queste costrizioni tutte queste misure atte a salvaguardare la salute delle persone cosa accoppita del presidente commisso tutto il suo attaccamento alla fiorentina questo è vero è una delle cose che più di tutte ha colpito anche me riguardo questo presidente arrivato il 6 di giugno del 2019 si è calato perfettamente non solo nella mentalità della fiorentina e dei tifosi viola ma anche nella mentalità dei cittadini della fiorentina sa già che che il tessuto connettivo dei firenze vive soprattutto di turismo che non ha grandi industrie vive di commercio firenze è la città nell'accezione migliore o peggiore fate voi bottegaia che sempre è stata mercantile e non imprenditoriale non ci sono grandi industrie a proposito salutiamo il fatto che è stata riaperta la fabbrica di gucci alle porte di scandicci e parla ricordo la sua telefonata subito dopo il mio acquisto in cui mi ricordava che era rimasto molto colpito dal gol che avevo segnato a marassi proprio contro la fiorentina mi ha colpito anche la sua grande umanità la raccolta forza e cuore si sta avvicinando ai 900 mila euro cosa augura al genoa naturalmente prima di tutto di salvarsi mi è dispiaciuto molto non dare il mio contributo la fiorentina ha acquistato dai rosso blu anche a gudelo è molto giovane deve ancora far vedere tutto ciò di cui è capace se ce la mette tutta può diventare un campione pradè crede molto in questo regista giovane della fiorentina quanto tempo ci vorrà per rivederla in campo ho lavorato duro ma senza correre rischi quando rientreremo e lo staff sanitario mi potrà visitare capiremo secondo lei è giusto tornare a giocare ora si deve pensare alla salute c'è voglia di tornare ma le istituzioni decidono i tempi mi sembra una risposta da ragazzo intelligente come è qua me l'attaccante italiano più forte beh sono tanti ma immobile sta facendo cose incredibili chi vincerà lo scudetto juve e lazio se lo contenderanno fino all'ultimo anche l'inter non è ancora tagliata fuori se si tornerà a giocare sarà un finale anomalo certamente giocare a porte chiuse e con determinate situazioni falserà sicuramente quello che sarà l'esito del campionato anni fa poteva andare all'inter prima del cittadella aspettavo quella chiamata ma nei razzurri mi avevano cercato quando il prato aveva già dato la parola a cittadella nessun rimpianto sono qui e sono felice molto molto bene questa intervista qua me la il corriere della sera a pagina 13 il corriere ferentino a stefano rossi fa la stessa intervista a qua me e più o meno si parla di come trascorre il tempo libero nella quarantena si sta allenando sulla terrazza l'impressione di iachini chiaramente non può essere che quella positiva un allenatore che sa che cosa vuole sa trasmettere la sua voglia il suo modo di vedere il calcio a tutta la squadra il suo tempo libero parla della famiglia parla anche della della sestese torna sul discorso del razzismo e il presidente e praticamente è un copia in colla con qualche differenziazione a quello che ha detto il la sulla gazzetta dello sport intanto spinelli parlando del livorno società a cui è molto vicino il nostro direttore stefano ballerini i tornei sono tutti da annullare sì siamo ultimi ma ci saremmo salvati aldo spinelli l'ottantenne presidente del livorno lo vedo molto ottimista nel mio cuore dice c'è il genoa bisogna tenersi stretto uno come preziosi se no e questa la dice lunga perché preziosi ricordo quando era al como fu fermato con una valigia piena di soldi per andare a cercare di alterare il risultato di una partita non ho tenuto diamanti perché breda non lo voleva e mi ha messo i tifosi contro e quindi un'intervista a spinelli che sta il livorno ha perso molto molto di quella che era stata il suo appeal che aveva portato tantissimi tifosi del livorno qualche decina di migliaia di tifosi del livorno a milano contro il milan con le bandane per uno sfottò a silvio berlusconi il livorno ha perso molto molto del suo appeal tant'è che è ultimo nella classifica del campionato di serie b andiamo a vedere altre notizie andiamo negli stati uniti new york sospesa la maratona numero 50 il simbolo del rilancio oltre 10.000 le vittime del virus lockdown quindi chiusura fino al 15 maggio ma la 42 km di novembre può fare da spartiacque credo che sarà molto difficile vedere la maratona di new york e kermess novembrina noi sul sito due o tre anni fa grazie ad un amico che aveva partecipato ci aveva raccontato come si svolge la maratona la maratona più importante del mondo sapete che new york boston londra berlino sono le maratone più importanti da una trentina d'anni a questa parte la maratona è entrata veramente nell'ambito sportivo e quasi tutti vediamo correre frequentare le e potremmo rivedere perché l'attività sportiva si va a fare dal 4 di maggio intanto il tempio del tennis flash in meadows è diventato ospedale contro il coronavirus è la casa dello slam più ricco e seguito ospita 350 letti e distribuisce 25.000 pasti quindi vedete si sta cercando di riconvertire è stato fatto in primis a coverciano grazie a questa convenzione tra il ministro della salute e il sindaco il comune di firenze è stato fatto anche in brasile quindi si sta riconvertendo il lo stadio del borussia dormul l'ex west fallen stadium a ospita malati di coronavirus quindi il mondo dello sport abbiamo visto si è mosso in tutte le direzioni per cercare di venire incontro a questa a questa pandemia la federazione italiana tennis decalogo per ripartire in campo con i guanti si giocherà a settembre il centrale anche lì ho forti dubbi si suggerisce i comportamenti in prossimità dei campi si dovrà arrivare sempre con la mascherina guanti e gel igienizzante nel portaracchette mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro prima durante e dopo aver giocato a tennis qui addirittura si parla di due soprattutto nel doppio quando si gioca ricordarsi di indossare il guanto con la mano cui si lancia la palla nel servizio o con la quale si raccolgono le palline se non riesce a indossare il guanto perché si gioca il rovescio a due mani utilizzare il gel disinfettante a ogni campo di campo la stretta di mano o il cinque potranno essere sostituiti con un tocco della punta della racchetta con quella del compagno di gioco l'arbitro potrà essere salutato indicandolo con la testa della racchetta e dopo il match lavarsi accuratamente le mani cambio campo dal lato opposto rispetto all'avversario prima visto vi avevate visto si incrociavano praticamente uno passa all'interno uno passa all'esterno se non è possibile mantenere l'istanza di sicurezza togliere il grip al termine di ogni incontro e il grip è un il un dispositivo che c'è sulla sulla racchetta quindi vedete si sta andando incontro a queste situazioni per cercare di ripartire ma ripeto saranno tutti cerotti perché sarà molto molto difficile tornare a vedere giocare a calcio a vedere sport prima dell'anno prossimo io non credo a maggio per quanto riguarda il calcio vorrò poi vedere quali saranno le misure che verranno prese dai vari dai vari sport la lega pro ci piace sentire sempre l'opinione di francesco ghirelli presidente della lega pro ha presentato due progetti sociale all'unione europea nell'ambito del programma erasmus che è un programma di ricerca che coinvolge le maggiori università europee doppio l'obiettivo preparare i calciatori a entrare nel mercato del lavoro una volta chiusa la carriera e combattere le frose sulle scommesse il progetto erasmus più yield intende sviluppare percorsi di formazione anche digitale per atleti e tecnici che si afficinano al termine della carriera il secondo erasmus più beat fix mira affrontare il problema delle partite truccate e delle frodi sulle scommesse sportive attraverso un approccio multidisciplinare e multi stakeholder non è usiale mettere un piede in europa con progetti di questa portata che possono essere un modello non solo per il calcio ma anche per la comunità soprattutto in termini sociale di inclusione e contrasto all'illegalità mettiamo un tappsello importante per il futuro il nostro amico il presidente ghirelli è sempre avanti in questa situazione a pagina 42 del correre della sera un'intervista a un allenatore che ha fatto molto bene a firenze claudio ranieri prematuro riprende gli allenamenti il 4 maggio sulle date non ci sono certezze la verità è che ci sono ancora troppi morti e troppi contagiati per ricominciare siamo una delle industrie più a rischio proprio perché il nostro non sport di contatto e non vorrei che la fretta ci portasse a commettere degli errori la saggezza di claudio ranieri che cosa non le torna del protocollo è giusto fare i tamponi come i test serologici ma in questo momento c'è gente che ne ha più bisogno di noi la saggetta del 68enne allenatore della sandoria noi non possiamo scavalcare i cittadini non sarebbe né giusto né etico ho degli amici che si sono che sono stati ammalati il tampone non sono riusciti a farlo perché non si sono trovati la gente perché non ci sono gli stessi sul test serologico da quello che mi risulta solo il 21 aprile il governo dirà quando quale fa quale quale fare e a noi quando arriverà sul ritiro lungo i giocatori sono chiusi in casa da quasi due mesi e stanno dando i numeri tra un po parlano con i muri molti sono da soli con la famiglia lontana e dovrei portare il ritiro un altro mese con la prospettiva di tenerli isolati anche durante le partite sarebbero quattro mesi di clusura non è credibile qual è lo stato d'animo dei giocatori non ne possono più di stare rinchiusi al tempo stesso hanno dei timori soprattutto quello che il virus le hanno contratti la sandoria sapete che è stata una delle squadre di cui è stata resa la positività parla di cacchini allenatore della fiorentina suo ex giocatore proprio a firenze sostiene che i guariti dovranno ricominciare più piano degli altri beppe a buon senso nessuno sa niente di questa pandemia delle sue conseguenze va benissimo allenarsi a distanza la prima settimana come dice il protocollo ma poi quanto e come posso forzare con un ragazzo che è stato ammalato e da noi è successo a tanti ci aspetta un tour de force pazzesco va gestito lo stress psicofisico soprattutto per squadre come la fiorentina e la sandoria che sono ricordiamo impegnate nella lotta per la salvezza non saranno partite esibizioni saranno partite dove quando e come si inizierà si deciderà il campionato la lotta uefa e la retrocessione chi mi assicura che calciatori colpiti da coved non succeda niente dopo uno scontro di gioco invito tutti alla prudenza sono morti anche dei giovani bisogna essere cauti molto cauti io sono perfettamente d'accordo con le parole di claudio ranieri persona di buon senso non me ne vogliano i vecchi saggi claudio ranieri pasquale presutti meo sacchetti sono loro da quali dobbiamo imparare sono i saggi persone dotate di grande buon senso da loro bisogna imparare non vedo questa fretta di reiniziare un campionato per creare come si dice con un gergo tipicamente fiorentino un abriccico vorrebbe dire una cosa fatta così tanto per fare molto meglio ripeto sono d'accordo con l'idea di galliani quando e come verrà trovato il vaccino perché naturalmente sarà questa la assoluta discriminante meglio iniziare a settembre ottobre in assoluta sicurezza naturalmente purtroppo a porte assolutamente chiuse paolo caselli per firenze viano super sport